Tempo di vacanza e l'assessore Marcello Comanducci ha lanciato un'appella a tutti gli eretini in vacanza, cioè portateci consigli da fuori città per promuovere il turismo anche da noi. Sì, noi siamo una città che si è affacciata al turismo di recente, quindi non abbiamo l'esperienza che possono avere tante altre città, soprattutto straniere e quindi l'invito è quello di guardare, di prendere spunto da tutte quelle che sono delle iniziative, soprattutto innovative, che riguardano il turista, ma soprattutto che riguardano le attività informative che vengono fatte verso il turista, quindi banalmente dalla parte cartacea ma soprattutto quella digitale. Io nei miei viaggi di lavoro spesso prendo spunti e quindi perché non aprire ai tanti cittadini? Tra l'altro ti dico che già in due giorni sono arrivate già tre o quattro idee veramente carine, quindi l'idea è proprio di imparare anche da quelli che sono più bravi di noi, perché poi alla fine in questo settore come in tanti altri non ci si inventa niente, dobbiamo essere bravi a capire cosa è bello e interessante, adattarlo ovviamente alla nostra realtà, però tutti coloro che vedono qualcosa di interessante ci contattino. Dove può segnalarvi? O direttamente sulla mia pagina Facebook o direttamente all'email del Comune, che quindi m.comanducci.comune.arezzo.it o comunque tramite dei social network.